Buongiorno ragazzi, Salento Sunday Festival, fatevi sentire ancora un po' al cielo! Energia positiva che passa dalla terra al cielo e torna dal cielo alla terra. Noi siamo in mezzo con la nostra anima, cerchiamo di vivere con energia positiva! Energia positiva nel posto un po' di casino! Grazie mille per la vostra forza che ci avete dato questa sera, bella lì che ci ha fatto suonare qua, viva la paccianca, noi amiamo questo stile, un po' di casino che ama la paccianca! Un onore per noi suonare sullo stesso palco con i Folka Bestia! Yes! E con Tonino Carotone! Un onore per noi essere qua domani con i Bunda Move! E soprattutto Manu Ciao! Yes! Well love! Energia positiva nel posto! Noi siamo per la pace, no? Non vogliamo più guerra, niente più violenza nel mondo, niente più politici che sponsorizzano questo! Quindi siamo per la gente che vuole girare il mondo senza confini, senza documenti, libertà assoluta, alla forza che passa Giramundo! Noi siamo per la gente che vuole girare il mondo, Hal HO! Non vogliamo girare il mondo sta con un massacoke! Il nome è lui Robertoismgood! Il nome è lui Roberto delossio insepar connects all'alimentazione che vuole girare il mondo, devo dire che un mio e Defensare al lanciare amico da' è la tua genitorne, anderenệnari, Grazie per la visione! 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 Grazie per la visione!